Meraviglioso! I Rescue Knights saranno contenti, ne sono certa. È da tempo che desidero organizzare una cena reale di ringraziamento e direi che ci siamo. Oh, quasi dimenticavo! Le posate! Queste forchette e cucchiai di inestimabile valore appartenevano ai miei nonni. Le uso solo in occasioni speciali. Hai sentito, Jean-Claude? Queste forchette e cucchiai di inestimabile valore appartenevano ai miei bis 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 nanni. Inestimabile valore? Beh, me le prenderò io allora. Jean-Claude, prendi questo sacco e quando la principessa non guarda, piomba lì e riempilo con tutte quelle posate reali. Ti aspetto alle Dragon Islands. Ecco, perfetto! Oh, il cibo è pronto! Prendiamolo! Un momento! Le mie posate reali! Non ci sono più! Lassù! È Jean-Claude! Le ha presi lui! Scommetto che dietro tutto questo c'è mio cugino, il duca di Flappington. È sempre stato geloso del mio status reale. Vorrebbe essere un principe. Farà di tutto. Per rovinare i miei piani, devo chiamare i Rescue Knights! Salve, Altezza Reale. Cosa succede? Jean-Claude ha rubato le mie posate reali. È diretto alle Dragon Islands. Ho bisogno del vostro aiuto per riprenderle. Sono molto speciali per me, Rider. Non preoccupatevi, principessa. Ve le riporteremo in men che non si dica. D'accordo. Al lavoro, Rescue Knights! Serve l'aiuto di tutti per questa missione. Rescue Knights, dovete usare i vostri draghi per sorvolare le Islands alla ricerca di Jean-Claude e delle posate della principessa. Dobbiamo riprenderle subito. Ecco Jean-Claude. Ha lasciato cadere le posate dentro la montagna. Sono troppo in profondità e la fessura è piccolissima. Come le tiriamo fuori da lì? Rubble, come un razzo! Posso usare la mia catapolta per ingrandire la fessura. Ottima idea, Rubble. E io userò il mio cannone d'acqua per non far alzare la polvere. Zampastico! Catapolta! Cannone d'acqua! Ottimo lavoro, cuccioli! Le vedo, ma sono ancora troppo in basso. Come le prendiamo? Rocky, abbiamo bisogno di te. Usa il tuo magnete superpotente per tirarle su. Semaforo verde, signore! Magnete! Ecco che arrivano! Chase, tocca a te. Usa la tua rete per raccogliere le posate. Wuff! Rete! Sky e Zuma, afferratela ai lati. Perfetto! Ottimo lavoro di squadra, cuccioli. Ora riportiamo queste posate speciali alla principessa. Fantastico! Fantastico! Sì! Oh, grazie, Rescue Knights. Avete risolto la situazione. Non c'è di che, vostra altezza. Per ogni occasione, noi siamo a disposizione. Bene, ora che abbiamo di nuovo tutte le posate reali, la cena è servita. Zampastico!